bene eccoci qua allora stabilita le ore 16 appena adesso ho avuto l'autorizzazione da parte dell'esercito e del colonnello Belinghieri di poter riprendere come vedete l'ambasciata russa il sito di Roma l'ambasciatore Sergei Razon ha ricevuto per nostra testimonianza l'appello che gli abbiamo rivolto e questo lo abbiamo rivolto a nome delle organizzazioni e delle associazioni di volontariato che si occupano in questo triste momento della piaga dei profughi ucraini dei rifugiati ucraini che oggi stanno muovendosi in tutta Europa e che stanno venendo in Italia tra questi voglio nominare quella che già abbiamo conosciuto negli nostri talk show in radio e che avete visto nei filmati di Rimini all'arrivo del primo pullman di profughi a Rimini e sto parlando di People for Ukraine che è un'organizzazione validissima e molto in questo momento impegnata sul fronte dell'accoglienza e dei soccorsi malitari bene io prima di leggervi la testimonianza che abbiamo consegnato in questo momento allo stesso ambasciatore volevo darvi un attimo dei dati su quello che sta succedendo per fare mente locale sull'oggetto di questa edizione speciale e cioè violenza e guerra sì perché la guerra parte e fa parte degli atti di violenza guerra e violenza violenza è quella che viene perpetrata anche alle donne ai bambini le violenze di ogni genere le cose vanno di pari passo e noi le discuteremo sul mio talk show quello che va sotto la barriera del riflettiamo mangiando e quindi sulle riflessioni di vita semplice e di una vita facile e semplice da poter vivere i tempi di oggi ci dicono esattamente il contrario va bene andiamo avanti e conosciamo i dati che in questo momento ci sono pervenuti scusate preferisco da questo momento in poi leggerli anche perché vi dovrò leggere la testimonianza che oggi siamo venuti a consegnare all'ambasciatore allora i dati ad oggi sono questi come sapete sono stati lanciati dei missili la notte scorsa e continuano ad essere lanciati ad oggi i missili lanciati sull'Ucraina da parte dell'esercito russo e lo dico qui davanti l'ambasciata russa sono più di mille dopo il bombardamento di Mario Paul è di oltre 21.000 morti il numero delle vittime quindi dopo quel bombardamento siamo oltre 21.000 morti il numero delle vittime è più 110 quello dei bambini cioè 110 bambini morti sotto il lancio di un missile e bambino vediamo dall'altra parte dall'altro fronte i soldati russi morti è superiore a 7.000 7.000 soldati morti in guerra in guerra in Afghanistan e Cecenia in questi 25 giorni il numero dei rifugiati ucraini in Europa che stanno fuggendo da queste catombe sono 5 milioni e al momento l'Italia ne conta più di 40.000 questi dati cari amici sono allarmanti ed è per questo che siamo venuti qui davanti all'ambasciata russa a testimoniare il nostro appello un appello che andremo a vedere ma che in sintesi si traduce in un appello alla pace un appello di pace vogliamo la pace cosa abbiamo riferito quindi all'ambasciata russa dopo questi orribili e tragici numeri ho deciso d'accordo con le organizzazioni e associazioni di volontariato che sostengo di venire qui davanti alla federazione russa e dal suo ambasciatore Sergei Razov a svolgere questo speciale sulla violenza di ogni genere e sulla guerra infatti non sono qui per assecondare la propaganda di Putin che con più di 11 milioni di russi con legami parentali in Ucraina sta cercando grosse tensioni tra gli stessi parenti e amici riuscendo a dividerli non sono qui per assecondare la propaganda a favore della guerra e del mercato delle armi sono qui invece per chiedere l'immediata fine della guerra sono qui per lanciare alla Russia un appello alla pace ricordando a tutti che attraverso azioni di non violenza come quelle compiute da due grandi pacifissi come Gandhi e Martin Luther King è possibile giungere a riconoscimento di quanto voluto di quello che si desidera si proceda quindi spediti con le negoziazioni di pace e si giunga immediatamente al cessate il fuoco bambine bambini donne e intere famiglie stanno morendo sotto il lancio di missili e bombe non si può più assistere in ermi a tali orrendi crimini la guerra ed i suoi crimini non deve essere accettata per nessun motivo la guerra non va accettata il mondo deve ribellarsi e mobilitarsi per ottenere subito la pace ambasciatore l'ambasciatore lei che è lì seduto nell'ambasciata lei che è abile diplomatico e mediatore noi chiediamo la pace 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 venerdì 8 aprile alle ore 21 su rete oro tv canale 18 per continuare a seguire in prima fila i fatti di guerra la situazione e l'andamento dei soccorsi ed accoglienza dei profuri ucraini i fatti relativi al grave tema della violenza sulle donne e dei femminicidi gli aggiornamenti relativi alla campagna di verità e giustizia per Irene Palacino da me promossa ne parleremo in studio insieme ad ospiti d'eccezione non mancate venerdì 8 aprile ore 21 talk show riflettiamo mangiando su rete oro canale 18 caro ambasciatore Sergei Razio dica Putin che dia il cessate il fuoco e interrompa subito i crimini di guerra qui commessi e sin ad ora commessi viva la pace signori questo speciale questa edizione è corta scritta perché ne va di mezzo la diplomazia il momento è particolare come vedete l'assetto urbano intorno all'ambasciata è presidiato militarmente è inavvicinabile e ringrazio ancora il colonnello che mi ha dato la possibilità di filmare l'ambasciata e di poter parlare liberamente viva la libertà viva la pace vi aspetto tutti lunedì e il venerdì 8 nel mio talk show su Rete Oro a continuare a seguire le faccende di violenza femminile maschile di ogni genere e soprattutto i fatti di guerra un abbraccio a tutti gli ucraini ai bambini e alle donne che in questo momento stanno soffrendo e sanno anche morendo vergogna viva la pace